ciao grandissimi benvenuti in questo nuovo mini video aggiornamento veloce sull'innesto azeta del melo allora qui ho due situazioni completamente differenti ho provato a fare sia un innesto molto molto piccolo con sia marse che porta innesto davvero molto piccoli in più qui ho il porta innesto e il nesto che appunto avevamo innestato insieme durante il video che vi ho fatto vedere appunto sul canale come vedete ha preso benissimo e questo è un tipo di innesto che ha talmente tanti punti di contatto del cambio è molto difficile che non riesca a prendere vedete qui sotto c'è tutti i degetti del porta innesto e qui sopra invece ha proprio preso molto molto bene e la pianta si sta sviluppando in altezza io a questo punto anche se qui comunque c'è un nuovo oggetto ora cerco di farvelo vedere anche se qui c'è un nuovo oggetto adesso lo metto a fuoco eccolo qua credo che comunque manderò avanti questo superiore per poi creare le le branche principali anche perché comunque l'ho fatto molto molto basso l'innesto vedete qui c'è l'innesto con addirittura qui ora non so se riuscite a vederlo ma c'è già addirittura il callo di cicatrizzazione è davvero tanta tanta roba ragazzi e cioè questo si sta parlando di un innesto fatto nemmeno venti giorni fa ecco quindi insomma tanta tanta roba e cercherò come ho detto di portare avanti questo questo oggetto apicale per poi diramarlo perché comunque devo comunque diramarlo altrimenti non posso creare una bella pianta passando all'altro innesto che ho fatto sempre a z qui ora si vedrà un po male perché comunque c'è questo c'è questo filo che copre l'innesto comunque deciso di provare a fare anche innesti un po più piccoli ed effettivamente funzionano anche questi perché di solito c'è quando ti insegnano a fare l'innesto ti diano guarda il porto innesto deve essere minimo di mezzo centimetro un centimetro e naturalmente la marza deve essere più o meno dello stesso spessore in questo caso ho provato a fare roba veramente molto molto piccola cioè nemmeno mezzo centimetro quindi ha preso lo stesso ha preso lo stesso vedete qui ora ha preso da poco però vedete che sta ributtando quindi ormai insomma l'innesto anche qui ha preso quindi innesto a z che vi consiglio tantissimo perché è un innesto come vi ho detto che prende sempre prende sempre tutti gli innesti che ho fatto stanno sempre preso perché come ho detto c'è talmente tanti punti di contatto e insomma da grandissimi risultati perché naturalmente la percentuale di attecchimento aumenta chiaramente e quindi niente ragazzi dai questi erano l'innesti a z che avevo fatto sul melo e noi ci vediamo prossimo mini video sempre qui su full stories ciao ragazzi ciao 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 ciao